Signori e signore bentornati a Game Fails, una puntata fantastica, almeno così mi ha anticipato Midna perché ci sono bellissimi bug, fail, laddove per fail intendiamo anche gol sbagliato in porta vuote in FIFA o in e-football Ovviamente ragazzi si vede che siete tornati a giocare a Cyberpunk, ce ne sono molti, si vede, ma non solo tra l'altro siccome io sto giocando a Fallout 76 ce ne sono diversi anche miei che non sono in gara ma perché stiamo parlando? E di un sacco di altri giochi, cominciamo! Cominciamo! E scompare! Meraviglioso! Occhio! Ai ai! Madonna mia! Vabbè adesso può capitare! Cosa? Quello si è alzato e contrariato! No, ha risolto! Ha risolto! Perfetto! Vole rimanere a giocare! Questa è il mio senti? Questa è il mio senti? Posso dire la mia? Sì Sono d'accordo con ciò che ha detto la dottoressa Fara E anche questo? Dove va? Cosa fa? Cosa fa? Posizionato! Ah perfetto! Sì è corretto! Mamma mia! Ecco! Questo è un fail, è glamoroso! No, 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 no! Frate! No, frate! Cosa fia steggia Arnautovic? Perché mica ha segnato lui? Signora? Eh... Signora? Signora? In mezzo alle palle! Capito? Signora! Va bene, signora! La vedo compita! Guarda, lui saluta le persone e le persone cadono! Ehi, che si dice? Vabbè, un saluto abbastanza convincente! È emozionante! Sì è emozionante! Ti saluta Spider-Man! Uh! Emiles Morales! Salve! Eh? Cadono! Cadono! Si distraggono! E non vedono la buccia di banana che c'è per terra! Ok, ma se per tre? Sì? Vai Kaidan! Però guarda che bravo eh! Senza neanche muovere un muscolo guarda come si trasla! Ci vuole! Forza di glutei! Addominali! E' qui addominali! Eh, bravissimo! Sarge un simulator! Ragazzi affidatevi a chirurghi bravi, non a questo! Non ha molto la mano ferma! No, no! Infatti, però, però... Però che? Obiettivo raggiunto! Ma come? È andata benissimo! Operazione ottima! Mi pare! Perfetta! Questo è bellissimo! Senti cosa dice? Questa è la faccia che riconosce! Riconosco quella faccia! Eh, la riconosco! Eh, proprio quella! Non ne ha, ma la riconosco! Così? Atterraggio e parcheggio non molto convinto! No, secondo me perfetto! Eh, qualche vinello di troppo! Qualche vinello... E come l'ha lasciata! Vediamo che succede! Sì! Ok, non capisco! Anche quando sembra che tutto debba andare bene, è proprio come una cosa che si rompe continuamente! Vediamo! Occhio! Eh, certo! I piedi, i piedi! Attiva la macchina dei flistors! Cosa succede? I piedi! Cosa sto guardando? Ma, no, ma tutto è uscito di fuori! Cioè, non... Che... Eh, la frenata brusca! Ottimo, parcheggio! Evitate la, parcheggio perfetto! Eh, vabbè, questo è un piccolo scontro! Sì, ci sta, ci sta! Così come questo! Certo, io mi aspetto un momento o l'altro la cazzata, la cazzata! Vediamo qua! Allora, questo non è frizzato, sta caricando! Ah! Cioè, vedi? Carica! E fin qui, cioè, fin qui, insomma! Un po' troppo! Carica un po'... Ecco, forse... Eccolo, ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta, ma ovviamente deve fare... Però, si è sforzato talmente tanto che, giustamente, è andato in crisi! È difficile uscire dal parcheggio! Eh, ragazzi, quando si... È così, è così! Non si trova il posto! Capita, capita! Nei centri commerciali, sempre così! Dice, ma dov'è l'uscita? Esatto, pure quello che si infila, quegli altri due... Anche la polizia... La polizia, giustamente, deve intervenire... Dove si esce qua? C'è il vetro rotto alla polizia? Zitto, è tutto normale! Ne ha la polizia! La polizia, occhio però! Tutto ottimo fin qui! Quasi, quasi, quasi... E che è un motoscafo? Eh, infatti! Eh no! I ammortizzatori... Eh no! Vedo un po' la macchina storica! Già parte male! Perché si è praticamente... Non ha convergenza! ...buggata la ruota! Sì? Vedi, e quindi c'è tutta la mancina! Sì, è tipo la ruota che si è incarrozzata! Esatto! È entrata proprio dentro la carrozzata! Le due ruote, in realtà! Eh, quindi è così! Recuperiamo le anime! Attenzione! Importantissime! Spero che salto... Ecco! Sì, però pure tu come salti male! Questo è mio! Grazie! È di lupi coi pattini! Di lupi coi pattini, sì! Vabbè, ma nella radioattività ci stai! I lupi pattini, no? Ma che domande vi fate! È tutta una scelta degli sviluppatori, no? Sì, sì, sì! Anche quella di prima di The Ring, sicuro! Sì! Ma qui c'è questo essere, diciamo, questo dinosauro! Ma c'è anche qui, come vedi, è una specie... E autottono, si trova in queste zone... Nell'area! ...estanziale, sì, sì, sì! Ha ancora freddo! Ha ancora freddo! Signorina, capisco... La capisco! Sì, sì! È il mio... Però la morte no! Però poi... Vieni con me! Ci vediamo lì! Ok, ci vediamo lì, River! D'accordo! Vediamo un po' come esce dal parcheggio! Già mi fa ridire! E questo... Guarda! Dai, River! Per corte... River! Ma dove stai andando? No! River, non ammazzare le persone! Ma ci vediamo lì cosa? Che sei passata dalla zona pedonale! Stai uccidendo tutti! E tutti quello inseguono, perché giustamente... Eh... Magari a girarla? Infatti! Ecco... Scusi! Polizia! Dietro! E poi gira! Manovra, manovra, manovra! Non di nuovo! Forse spera di scalzarlo, tipo piede di porco! Bello quando si suicida, no? Sì, sì! È bellissimo, ragazzi! È molto bello! Bello! Ah, meraviglioso! Perfetto! Anche tu? Dai! Dai! Dai non ci pensiamo più! Ah! Perfetto! Perfetto, signori! Perfetto! Cose inspiegabili! Ma c'è sempre sto sottomarino con la coda! Sottomarino di prima! Sì! Che fa un po' le bizze! E vabbè! Qui succedono cose un po' strane! E cominciamo da lui! Ma non solo! Anche qui! E ti guardo e io... Problem! È così! È tutto... È vivo! È vivo! Cioè, proprio... Ti guarda! Dai! Ci sta! Ci sta! È tutto normale! Che allo stomaco si sta risucchiando la pancia perché vuole venire Benningham! Stavi dicendo! Aspetta almeno che abbia finito di parlare! Ah! E se ne ha fatto! Ha finito di esistere! Sì! Attenzione! Sì! Forse le do... Sono senza testa! Sono senza testa signori! Sono senza testa! Cosa è successo? Glitch incredibile! Glitch ha... Glitch ha... Buggato tutto! Anche questo! Questo off camera è successo, non in live! Allora, il cavallo dove sta affondando... È un po' sexy balsi! Se vogliamo, eh! Un po' un po'! Invece qui andiamo più indietro con l'outre con cose strane! Anche questo è abbastanza un classico intramontabile, no? I poligoni che impazziscono! Come questo, per dire... Esatto! Anche questo è un sexy balsi! Un po' sì! Solo che ha preso un po' alla lettera il discorso di... È da Zero Dawn a Forbidden West! È un attimo! Vai, Aloy! C'è una scia! Eh no! È perché... Che brava! Devi aspettare che passi quella! Appena passa! Occhio, Aloy, perché sta arrivando l'onda! Vediamo! Sbagata! Ottima! Ovviamente può mancare il sottomondo! No! Qui non è proprio sottomondo! Però lui ci va! Sì, 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 bravo! Perché lui è tag life! Bravo, bravo, bravissimo! Super sottomondo! Talmente sottomondo che a un certo punto è morto! Mi sembra giusto! Sì, ma perché sono morti? Ma perché sono spuntati dal mondo? Lo posso capire che sponino, ma perché è morto? Cioè... Ma tu ti fai queste domande con Skyrim? No, non me le faccio effetti! Non si fa le domande con Skyrim! Ma ragazzi, voi potete votare qual è il bug che vi ha fatto più divertire in questa puntata seguendo il link in descrizione, ma vediamo qual è stato il più bello votato da voi della volta scorsa! Noti qualcosa di strano, Raiden? Tutto! Guarda bene! Lui era all'impiedi sul cavallo... Ah, si scappa di cagare! E si è dovuto fermare... Arriva, arriva! Si sta tenendo! Si sta tenendo perché cerca un bug! Ma dai, falla nelle fresche frasche! Cosa stai cercando? Signori, vi invitiamo a mandarci i vostri game fails che vi ricordiamo possono essere bug, glitch, cose particolari che avvengono nei videogiochi durante le vostre sessioni di gioco, quindi anche fail. Ma anche Epic Winx, per esempio, che era un gol non sbagliato ma fatto in modo rocambolesco a porta non vuota. Lo ho cambiato. No, ti confondi, insomma, cose che vi fanno ridere e comandatecele. Io, per esempio, una volta in Trackmania United ho vinto una partita perché il mio kart è glitchato e era direttamente sul traguardo. Ho fatto il primo punteggio in assoluto e nessuno l'ha mai battuto perché c'era glitch. Ecco, vedete, non mi vanterai di questa, non mi vanterai. Grazie mille ragazzi, ci vediamo alla prossima. È vero, è successo veramente. Subito, ho fatto un secondo e tutti ci provavano e mi scrivevano in prova, cosa c'è fatto un secondo, cazzo ne so, io ho fatto accelerare, ero sul traguardo.